Buongiorno a tutti, oggi siamo alla pista Barauda di Moncaglieri e cosa stiamo facendo? Grazie a Paolo Porta e il team Roger Tuning stiamo regalando un sogno a Roberta Argiola il suo sogno era quello di salire su una vettura da rally e in questo momento stanno per partire quindi cosa dici Paolo? Grazie anche a te che questo sogno si può realizzare da pilota di rally, io da rally oggi una giornata di merda perché piove, è umida non sto capendo niente, quindi controlla tu stira tu che sennò non respiri neanche, io lo fio tu la, perfetto sei per salire sulla scoda e a me 5 di Roger Tuning grazie la tua prima volta sulla scoda R5 sei emozionata? di più a me di più si dici niente? non ho parole allora pilota e driver oggi è Kenzio Soppa vabbè, tu che gara farai domenica? domenica vado a fare il rally di San Martino perché anche l'italiano lo ricevo con questa macchina quindi oggi ho il test per te ho il test per provare come va solamente per riprendere il comando grande Ezio per il grande regalo che stai per fare a Roberta divertitemi un piacere ciao Robi, goditela, ciao 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 adesso scaldiamo un po' le gomme Roberta assolutamente sì ok mi fido il mille per mille di te fico 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 a posto? Tutto appostissimo, tutto appostissimo, bello, bello, assolutamente sì, spettacolo, tutto. Non puoi dare un'impressione a un sogno che è diventato una realtà, è stato unico. Non ci sono parole, non ci sono parole, assolutamente sì di più. Non è? Tranquillo, ti è piaciuto? Assolutamente sì. I sogni si possono anche realizzare, dipende sempre se ci crediamo in formula. E oggi ne è la dimostrazione, non bisogna mai arrendersi, prima o poi qualcuno o qualcosa fare in modo che il tuo sogno si realizza. Saluto a tutti da Boccaglieri.